Buon pomeriggio a tutte e a tutti gli ospiti. Saluto le relatrici e i relatori di questa giornata e ringrazio per aver voluto condividere questo momento di avvio di un progetto importante, il cui obiettivo è, come voi dite, disseminare buone pratiche, creando un vero e proprio ecosistema dell'innovazione e della digitalizzazione nella logistica, dove far convergere informazione, competenze, strumenti, buone pratiche, ovvero quanto attualmente caratterizza contesti spesso molto distanti tra loro, non necessariamente comunicanti. E in fin dei conti una delle sfide più grandi cui siamo chiamati come sistema paese, quando parliamo di innovazione, riuscire a permeare ogni segmento per mettere sempre più a frutto nelle aziende, anche quelle più piccole, quanto le frontiere più avanzate della ricerca e della tecnologia mettono a disposizione, perché l'intero mondo delle nostre imprese logistiche ne sia completamente coinvolto e informato. Non è una sfida da poco, ma è essenziale esserne consapevoli e attrezzarsi per vincerla, sapendo bene come sarà proprio il terreno della logistica, quello su cui si misurerà il successo dei differenti piani di ripresa su cui sono impegnati i paesi europei, ovvero la capacità di realizzare, entro il tempo previsto e tenendo insieme qualità dei progetti e qualità dell'attuazione, gli investimenti nelle infrastrutture materiali e immateriali. Sarebbe dunque profondamente sbagliato continuare a considerare la logistica come l'anello debole del sistema industriale e commerciale e va rovesciato il paradigma e l'asse portante della crescita. La digitalizzazione, il 5G, la cyber security sono grandissime sfide da affrontare. Come giustamente osservate il governo ha destinato nel piano nazionale di ripresa e resilienza ingenti risorse destinate a progetti che sostengono la competizione delle aziende e il loro posizionamento nel mercato globale. Uno scenario complesso caratterizzato anche da disparità e difformità. Da un lato i grandi operatori internazionali della logistica che stanno credendo molto nel nostro paese, incrementando gli investimenti, opportunità di lavoro, l'attestarsi di sistemi sofisticatissimi nella sfera digitale. Dall'altro facciamo ancora i conti con un sistema troppo frammentato in piccole imprese. Favorire le aggregazioni è chiave di volta, ma prima ancora lo è sostenere le imprese nel dotarsi degli strumenti necessari per competere, formazione continua e nuove tecnologie. In questo scenario di vorticosa trasformazione, dove nessuno deve essere lasciato indietro, perché anche da qui passa la nostra capacità di essere leader a livello globale. Le associazioni di categoria possono avere un ruolo determinante come incubatori e aggregatori di progetti. Per questo sono qui anche per congratularmi con Feder Logistica Confotrasporto per essere riuscita a creare una comunità digitale, mettendo insieme competenze di grandissimo valore, come il Politecnico di Torino e il Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica e Trasporti dell'Università di Genova e eccellenze aziendali. Creare progetti e modelli basati sulla semplificazione resa possibile dall'utilizzo dei 5G. Favorire la creazione di network e nuove opportunità per le aziende li ritengo i grandi e utili obiettivi. Bisogna supportare le aziende e cogliere le grandi opportunità che si stanno aprendo. Avere un sistema capace di fare dialogare sempre di più i porti, gli operatori logistici, i centri intermodali, l'autotrasporto e le infrastrutture aiuterà a ridurre i tempi, efficientare il sistema, dare un notevole contributo alla riduzione delle emissioni. La via per la sostenibilità sociale, ambientale e economica passa obbligatoriamente da qui ed è evidente che questo processo necessario e rinunciabile per dare realmente risultati attesi dovrà permeare l'intero mondo della logistica e tutte le imprese coinvolte. Anche quelle dove ad esempio ancora oggi è forte la presenza del cartaceo e soprattutto quelle delle informazioni destrutturate che come dicono gli analisti non forniscono valore e creano anche blocchi al processo, ben sapendo come l'organizzazione di informazioni e dati è essenziale sia per consentire alle aziende già digitalizzate una gestione preventiva degli eventi che caratterizzano questo complesso e affascinante segmento che per portare tutte le altre a digitalizzare l'intero processo. C'è molto da fare. Se solo pensiamo banalmente alla scarsità ed inadeguatezza delle informazioni che riceviamo percorrendo le autostrade capiamo bene la necessità di creare aree digitalizzate per l'autotrasporto migliorando notevolmente il lavoro della categoria. Lo sforzo deve essere quello di avere una visione unitaria delle infrastrutture materiali e immateriali per creare condizioni di lavoro e di efficienza facendo crescere le aziende sviluppandone di nuove garantendo migliori e sicure condizioni di lavoro perché anche così la logistica sarà sempre di più un settore attrattivo per le nuove generazioni e anche per le donne. Ci sono migliaia di piccole aziende che devono essere accompagnate verso questa nuova sfida e mi auguro che il vostro lavoro sia di grande supporto per loro. È un impegno che ci accomuna e che ci deve vedere uniti. A tutte e a tutti voi auguro buona discussione e ottimo confronto.